Per la collana Anche i giovani leggono i classici, Bartol Biloscrivano, di Herman Melville, letto da Filippo Scotti. Sono un uomo piuttosto avanti negli anni. La natura della mia professione mi ha portato, nel corso degli ultimi tre decenni, in contatto e non soltanto nel solito contatto con una categoria di uomini interessanti all'apparenza e in qualche modo singolare, sui quali, per quanto ne so, finora non è mai stato scritto nulla. Mi riferisco ai copisti legali, ovvero agli scrivani. Nella mia vita professionale e privata ne ho conosciuti moltissimi e, se volessi, potrei raccontare varie storie che farebbero sorridere i benevoli e piangere i sentimentali. Ma per qualche brano sulla vita di Bartol B, il più strano che abbia mai visto o conosciuto, rinuncio alle biografie di tutti gli altri. Mentre di molti scrivani potrei narrare l'intera vita, non si può fare nulla del genere per Bartol B. Non esiste materiale, ne sono convinto, per comporre una biografia completa e soddisfacente di quest'uomo. È una perdita irreparabile per la letteratura. Bartol B fu uno di quegli individui sui quali non si riesce ad accertare nulla, senza risalire alle fonti originali, nel suo caso molto esigue. Quello che videro i miei occhi attoniti. Ecco ciò che so di Bartol B, tranne, in vero, una vaga notizia che apparirà in seguito. Prima di introdurre lo scrivano, quale mi apparve la prima volta, è opportuno che accenni a me, ai miei employé, al mio lavoro, al mio ufficio e all'ambiente in generale, perché si tratta di raguagli indispensabili per capire in modo adeguato il protagonista che fra poco sarà presentato. Anzitutto, sono un uomo che, dalla giovinezza in poi, ha maturato una profonda convinzione. Nella vita, la via più facile è la migliore. Ne consegue che, pur svolgendo una professione proverbialmente esuberante e a volte concitata al limite della turbolenza, non ho mai lasciato che cose del genere sconfinassero nella mia pace. Sono uno di quegli avvocati privi di ambizioni, che mai si rivolgono alla giuria e in nessun modo inseguono l'applauso del pubblico, ma che, nella tranquilla frescura di un angolino appartato e discreto, si dedicano a un lavoro discreto fra i titoli, le obbligazioni, le ipoteche di uomini abbienti. Quanti mi conoscono, mi considerano una persona eminentemente cauta e fidata. Il compianto John Jacob Astor, personaggio poco incline ai voli poetici, non esitava a dichiarare che la mia prima virtù era la prudenza, la seconda, il metodo. Non lo dico per vanità, ma soltanto per attestare il fatto di aver prestato i miei servigi al compianto John Jacob Astor, nome che adoro ripetere, lo ammetto. Possiede infatti un suono rotondo e sferico, tintinnante come l'oro. Aggiungerò di mia iniziativa di non essere stato insensibile alla buona opinione che di me aveva il compianto John Jacob Astor. Qualche tempo prima dell'epoca in cui ebbe inizio questa breve storia, il mio lavoro era molto aumentato. Mi era stato conferito il buon vecchio incarico di giudice dell'Alta Corte di Equità, ufficio ormai abolito nello Stato di New York. Non era una carica molto gravosa, ma assai piacevolmente remunerata. Di rado perdo la calma. Ancora più di rado mi abbandono a una pericolosa indignazione davanti ai torti e agli oltraggi, ma mi sia concesso a questo punto di essere avventato. Dichiaro che, a mio avviso, l'abrogazione subitanea e violenta dell'ufficio di giudice dell'Alta Corte di Equità da parte della nuova legge fu un atto prematuro. Tanto più che avevo contato su quei benefici per il resto dei miei giorni, mentre ne godetti soltanto per alcuni brevi anni. Ma questo è detto tra parentesi. Il mio ufficio era al primo piano di Wall Street, numero... Da un lato le finestre si affacciavano sul muro bianco di un ampio cabedio, che prendeva luce da un lucernario e attraversava la casa da cima a fondo. Questa veduta forse poteva sembrare più scialba che suggestiva, carente com'era di quanto i pittori paesaggisti definiscono vita. Ma, se così era, la vista sull'altro lato dell'ufficio offriva almeno un contrasto. Su quel versante le finestre dominavano in pieno la vista di un alto muro di mattoni, annerito dagli anni e incupito dalla perenne ombra. Non occorreva che un cannocchiale ne rivelasse le bellezze nascoste, perché, a beneficio degli osservatori miopi, queste risaltavano a meno di dieci piedi dai vetri delle mie finestre. La circostanza che gli edifici intorno fossero molto alti e che il mio ufficio fosse al primo piano faceva sì che lo spazio fra questo muro e il mio assomigliasse a un'enorme cisterna quadrata. Nel periodo appena precedente l'arrivo di Bartleby, avevo al mio servizio due persone in qualità di scrivani e un ragazzo promettente che faceva da fattorino. Il primo, Tacchino, il secondo, Pansnè, il terzo, Zenzero. Nomi questi che non si trovano forse nei registri, a dire il vero, erano nomignoli che i tre si erano reciprocamente affibbiati e, pareva, esprimevano bene le rispettive persone e i rispettivi caratteri. Tacchino era un inglese basso e asmatico, della mia stessa età, cioè non lontano dai 60 anni. Al mattino, si potrebbe dire, il suo volto aveva un bel colorito florido, ma dopo le dodici, mezzodì, l'ora di pranzo, si accendeva come la grata del caminetto a Natale e continuava a fiammeggiare, ma, per così dire, smorzandosi a poco a poco, fino alle sei o giù di lì. Dopodiché non vedevo più il proprietario di quella faccia che, raggiungendo il pieno fulgore con il sole, sembrava tramontare con questo per sorgere, culminare, declinare il giorno successivo con pari regolarità e altrettanta gloria. Esistono molte coincidenze singolari che ho conosciuto nel corso della vita. Non ultima quella che, esattamente quando Tacchino irradiava tutto il suo fulgore dal volto rosso e raggiante, proprio allora, in quel momento critico, aveva inizio la fase quotidiana nella quale, a mio avviso, le sue capacità professionali erano gravemente compromesse per ciò che restava delle ventiquattro ore della giornata. Nonché allora rimanesse a girarsi i pollici o mostrasse avversione al lavoro, lungi da ciò. Anzi, il guaio era che si affaccendava troppo. Cadeva in preda a una strana furia arruffata e pasticciona. Era sbadato nell'intingere la penna nel calamaio. Le macchie sui documenti cadevano tutte allora, dopo le dodici. In vero, nel pomeriggio non era soltanto sventato e tristemente inclino a fare macchie, ma in alcuni giorni ne combinava di peggio e si faceva rumoroso. In queste occasioni la sua faccia accesa vampava ancora di più, quasi che sull'antracite avessero ammucchiato carbone tipo cannel. Con la sedia faceva chiasso a non finire. Rovesciava lo scatolino della sabbia. Nell'aggiustare le penne per l'impazienza, le faceva a pezzi e le buttava per terra, preso dalla rabbia, si alzava, si sporgeva oltre il tavolo, metteva a soquadro le carte in modo addirittura indecoroso. Insomma, davvero uno spettacolo triste in un uomo della sua età. Era tuttavia per me un collaboratore prezioso, che fino a mezzogiorno si dimostrava, come pochi, persona pronta, equilibrata e assidua, capace di svolgere una grande mole di lavoro di qualità non facilmente uguagliabile. Ecco perché chiudevo un occhio sulle sue bizzarrie, sebbene di tanto in tanto, in vero, gli rivolgessi le mie rimostranze. Lo facevo con molto tatto, perché, mentre al mattino era il più civile, garbato, rispettoso degli uomini, nel pomeriggio, se provocato, rischiava di ricorrere a parole un po' avventate, anzi, insolenti. Ora, tenendo, come facevo, in grande considerazione i suoi servizi mattutini, e deciso a non perderli, tuttavia sentendomi nello stesso tempo a disagio per i suoi modi pomeridiani così esuberanti, ed essendo un uomo pacifico, poco propenso a suscitare con i miei rimproveri reazioni disdicevoli da parte sua, mi decisi un sabato pomeriggio, al sabato era peggio che negli altri giorni, ad accennargli con molto garbo che, forse, ora che invecchiava, avrebbe ben potuto ridurre l'orario di lavoro. Insomma, non era necessario che venisse in ufficio dopo le dodici, ma, una volta finito il pranzo, gli sarebbe convenuto ritornarsene a casa a riposarsi fino all'ora del tè. Niente da fare. Insistette nel dedicarmi i suoi servizi pomeridiani. Il volto gli si infervorò da far paura, mentre compiglio oratorio mi assicurava, gesticolando con un lungo righello all'altro capo della stanza, che, se erano utili i suoi servizi mattutini, non erano forse indispensabili quelli pomeridiani? «Con tutto il rispetto, signore», disse Tacchino in quest'occasione, «mi considero il suo braccio destro. Al mattino mi limito a ordinare in grande spiegamento le mie schiere, ma nel pomeriggio mi metto alla loro testa e, audacemente, attacco il nemico. Così!» E con il righello vibrò una violenta stoccata. «Ma le macchie, Tacchino!» Insinuai timidamente. «Vero, signore, ma con tutto il rispetto, guardi questi capelli. Sto invecchiando. Di sicuro non si può rimproverare a questi capelli grigi una macchia o due in un pomeriggio caldo, signore. La vecchiaia, anche quando imbratta una pagina, è onorevole. Con rispetto, signore, tutti e due stiamo invecchiando. Difficile resistere a quell'appello alla mia solidarietà. Capivo in ogni caso che di andarsene non se ne parlava. Risolsi, perciò, di lasciarlo stare, decidendo tuttavia di provvedere a che nel pomeriggio trattasse documenti di minor conto. Pansné, il secondo della lista, era un giovanotto di circa venticinque anni, giallognolo, con basette e nell'insieme con un'aria piratesca. Ho sempre ritenuto che fosse la vittima di due influssi malefici, l'ambizione e la cattiva digestione. L'ambizione si manifestava in una certa insofferenza per i compiti di mero copista, che, inammissibilmente, usurpavano gli affari strettamente professionali, come la stesura originale di documenti legali. Quanto alla cattiva digestione, ne erano sintomi una saltuaria irascibilità e ringhiosa irritabilità, che gli facevano arrotare i denti in modo udibile, per errori commessi nel copiare. Imprecazioni inutili, sibilate più che scandite a parole nell'incalzare del lavoro, e soprattutto, la perpetua scontentezza per l'altezza della scrivania. Sebbene avesse un'inclinazione ingegnosa alla meccanica, Pansné non riuscì mai a adattare il tavolo alle proprie esigenze. Metteva sotto pezzi e pezzettini di vario genere, blocchetti di cartone. Per ottenere uno squisito equilibrio, arrivò all'estremo tentativo di utilizzare strisce di carta assorbente piegata. Ma inutili erano tutti i colpi di genio. Se, per dar sollievo alla schiena, alzava il ripiano del tavolo ad angolo acuto, portandolo quasi sotto il mento, e vi lavorava come chi usasse per scrivere il tetto spiovente di una casa olandese, allora dichiarava che così si bloccava la circolazione delle braccia. Se allora abbassava il tavolo fino alla vita e vi si piegava sopra per scrivere, ecco che insorgevo un acuto dolore alla schiena. Insomma, la verità era che Pansné non sapeva quello che voleva. Oppure, se qualcosa voleva, era di sbarazzarsi una volta per tutte del tavolo da scrivano. Fra le manifestazioni della sua morbosa ambizione, c'era una propensione entusiastica a ricevere le visite di certi individui loschi, intabbarrati in malconce palandrane, che egli chiamava suoi clienti. Ero al corrente, in verità, che non soltanto si dava da fare a volte in una circoscrizione elettorale, ma di tanto in tanto sbrigava qualche faccenduola in tribunale e non era sconosciuto sui gradini delle tombe. Ho, tuttavia, buone ragioni di ritenere che è almeno un individuo, uno che veniva a trovarlo in ufficio, e che lui con grandi arie si ostinava a chiamare suo cliente, altri non fosse se non un esattore che gli stava alle costole e il presunto titolo di credito una cambiale. Ma, con tutte le sue manchevolezze e i fastidi che mi procurava, Pansnè, come il suo compatriota Tacchino, mi era molto utile. Scriveva con mano rapida e nitida, e quando gli garbava non gli mancavano maniere da gentiluomo. E da gentiluomo si vestiva sempre, dando così, incidentalmente, lustro al mio studio. Con Tacchino, invece, dovevo adoperarmi perché non mi facesse sfigurare. I suoi abiti erano spesso unti e puzzavano di trattoria. D'estate portava pantaloni larghi e sformati, le giacche erano esecrabili. Il cappello, poi, meglio non toccarlo. Ma se il cappello mi era indifferente perché la naturale urbanità e la deferenza da impiegato inglese lo inducevano a toglierselo nell'istante in cui varcava la soglia, la giacche, invece, era tutt'altro affare. Ne ragionai con lui, a proposito dell'argomento giacche, ma senza risultato. La verità era, credo, che un uomo con uno stipendio così modesto non poteva permettersi di esibire simultaneamente una faccia smaiante e una giacca smaiante. Come osservò una volta Pansné, i soldi di Tacchino andavano quasi tutti in inchiostro rosso. Un giorno d'inverno regalai a Tacchino una mia giacca dall'aria molto rispettabile. Grigia, imbottita, dava un delizioso calduccio e si abbottonava dalle ginocchia su su fino al collo. Pensavo che Tacchino, apprezzando quel favore, avrebbe mitigato la sventatezza e la chiassosità pomeridiane. Ma che? Credo davvero che l'abbottonarsi in quella giacca morbida che pareva una coperta avesse su di lui un effetto pernicioso, per lo stesso principio che la troppa biada fa male ai cavalli. Infatti, proprio come di un cavallo impetuoso e recalcitrante si dice che senta la biada, così Tacchino sentiva la giacca. Lo rendeva insolente. Era un uomo che la prosperità guastava. Sebbene sulle abitudini in cui indulgeva Tacchino io avessi le mie opinioni personali, nei confronti di Pansné ero davvero convinto che, a prescindere dai suoi difetti, sotto altri punti di vista fosse perlomeno un giovanotto morigerato. Anzi, la natura stessa pareva avergli fatto da oste e alla nascita gli aveva istillato da capo a piedi un temperamento così irritabile e di tipo alcolico da rendere superfue tutte le successive libagioni. Quando ricordo come, nella quiete immobili del mio ufficio, Pansné a volte si alzava dalla sedia con impazienza e, chinandosi sul tavolo, spalancava le braccia, afferrava l'intera scrivania, la spostava, la sbatacchiava grattando il pavimento con un movimento sinistro, quasi che il tavolo avesse una sua volontà perversa attesa a ostacolarlo e tormentarlo, capisco chiaramente come per Pansné acqua e cognac fossero del tutto superflui. Per mia fortuna, visto che la causa specifica ne era la cattiva digestione, l'irritabilità e il conseguente nervosismo di Pansné si manifestavano soprattutto al mattino, mentre nel pomeriggio era relativamente tranquillo. Quindi, poiché gli attacchi parossistici di Tachino maturavano soltanto intorno al mezzogiorno, non dovevo mai vedermela con le loro eccentricità contemporaneamente. Le crisi si alternavano come le sentinelle nei turni di guardia. Quando era in servizio Pansné, Tachino era in licenza e viceversa. In quelle circostanze era una buona intesa naturale. Zenzero, il terzo della lista, era un ragazzotto di circa dodici anni. Il padre, carrettiere, nutriva l'ambizione di vedere prima di morire il figlio seduto sul seggio di un tribunale invece che sul sedile di un carro. Ecco perché me lo mandò in ufficio in qualità di studente di legge, fattorino, addetto a pulire e spazzare, al salario di un dollaro alla settimana. Aveva una piccola scrivania per sé, ma non la usava molto. A chi gli spezionasse il cassetto si parava davanti una collezione di gusci di noce di ogni genere. Per questo ragazzo sveglio, infatti, tutta la nobile scienza del diritto stava in un guscio di noce. Non infima fra le mansioni di Zenzero e quella che svolgeva con la massima lacrità era il compito di approvvigionare di dolci e mele, Tachino e Pansné. Copiare documenti legali è proverbialmente un compito arido e secco, ragion per cui i miei due scrivani erano desiderosi di inumidirsi spesso la bocca con mele spizzenberg che si potevano acquistare in varie bancarelle nei pressi della dogane e della posta. Molto di frequente, inoltre, mandavano Zenzero a comprare quelle particolari focaccine, piccole, piatte, rotonde, molto speziate, che avevano suggerito quel soprannome. Nelle mattine fredde, mentre il lavoro era torpido, Tachino ingoiava dozzine di queste focaccine, quasi fossero cialde sottilissime, ne danno addirittura sei o otto per un centesimo, mentre lo scricchiolio della penna si mescolava al rumore della bocca che sgranocchiava quelle focaccine croccanti. Fra i clamorosi sbagli pomeridiani commessi da Tachino nella sua smania pasticciona, ce ne fu uno che per un pelo non mi indusse a licenziarlo. I capitò di inumidire fra le labbra una cialda allo zenzero e appiccicarla su un'ipoteca a mo' di sigillo. Ma mi intenerì con un inchino di orientale cerimoniosità e con queste parole «Con rispetto, signore, è stato un gesto generoso rifornirla a mie spese di cancelleria». Ora, la mia attività originaria, quella di redigere atti notarili, di spulciare sulla regolarità dei titoli, di stendere oscuri documenti di varia natura, ebbe un considerevole incremento dopo che fui nominato all'alta corte di equità. C'era quindi molto lavoro per i copisti. Non soltanto dovevo mettere sotto il torchio gli impiegati già con me, ma dovevo procurarmi altro aiuto. In risposta a un annuncio, una bella mattina, si parò immobile sulla soglia del mio ufficio un giovane. La porta, infatti, era aperta perché era estate. Rivedo ancora quella figura, pallidamente linda, penosamente decorosa, irrimediabilmente squallida. Era Bartleby. Dopo qualche cenno sulle sue qualifiche, lo assunsi, felice di avere nella mia squadra di copisti un uomo dall'aspetto così singolarmente mite che, pensavo, forse avrebbe avuto un benefico influsso sull'irrequietezza di Tacchino e l'irroenza di Pansnè. Avrei dovuto già accennare alle porte pieghevoli di vetro smerigliato che dividevano in due il mio ufficio. Da una parte c'erano i miei scrivani, dall'altra c'ero io. A seconda dell'umore aprivo le porte oppure le chiudevo. Decisi di assegnare a Bartleby un angolo accanto alle porte pieghevoli, ma dalla mia parte, in modo da avere a portata di voce quell'uomo tranquillo se, per caso, si fosse dovuto sbrigare qualche lavoretto. Sistemai dunque la sua scrivania in quella parte della stanza, accanto a una finestrina laterale che in origine offriva uno scorcio sul retro, affacciandosi su certi cortili sporchi e muri di mattoni ma che allora, a seguito di successive costruzioni, non si affacciava più su nulla, sebbene lasciasse entrare un po' di luce. A meno di tre piedi dai vetri della finestra c'era un muro e la luce veniva da molto in alto, filtrando tra due alti edifici, quasi piovesse dal pertugio di una cupola. Per rendere ancora più soddisfacente la sistemazione mi procurai un alto paravento verte pieghevoli che poteva escludere completamente Bartelby dalla mia vista, pur lasciandola a portata di voce. Così, in certo modo, convivevano solitudine e compagnia. In un primo tempo Bartelby eseguì una straordinaria molle di lavoro. Quasi fosse ingordo di avere qualcosa da copiare pareva volesse rimpinzarsi di documenti. Non c'era pausa per digerirli. Scriveva giorno e notte copiando alla luce del sole e al lume della candela. Mi avrebbe entusiasmato quella sua dedizione se fosse stato allegramente operoso. Continuava invece a macinare lavoro in silenzio e sangue con moto meccanico. È naturalmente parte essenziale del lavoro dello scrivano accertarsi che la copia sia esatta parola per parola. Se in un ufficio vi sono due o più scrivani si assistono a vicende in questo controllo uno leggendo la copia e l'altro tenendo l'originale. È una faccenda noiosa spossante soporifera. Non faccio fatica a pensare che sarebbe intollerabile per un temperamento sanguigno. Non riesco a immaginare ad esempio il focoso poeta Byron lietamente seduto insieme a Bartleby a controllare un atto legale di diciamo 500 pagine scritte con grafia fitta e raggrinzita. Di tanto in tanto se c'era fretta avevo l'abitudine di aiutare a confrontare qualche breve documento chiamando allo scopo Tacchino o Pansnè. Uno dei motivi per mettere Bartleby così a portata di mano dietro il paravento era stato quello di disporre dei suoi servigi in lavoretti del genere. Era con me credo da tre giorni. Non c'era stata ancora la necessità di esaminare le sue copie quando dovendo completare in gran premuro una faccenda di punto in bianco chiamai Bartleby. Nella fretta e nella naturale aspettativa di un'immediata obbedienza me ne stavo seduto con la testa china sull'originale posato sulla mia scrivania la mano destra di lato nervosamente tesa nel porgere racopie in modo che emergendo dal suo cantuccio Bartleby potesse afferrarle e procedere all'esame senza il minimo indugio. In questo atteggiamento sedevo dunque quando lo chiamai spiegando rapidamente quello che volevo da lui cioè esaminare insieme a me un breve documento. Figuratevi la mia sorpresa anzi la mia costernazione quando senza muoversi dal suo angolino con voci singolarmente soave ma ferma Bartleby rispose preferirei di no. Rimasi per qualche tempo seduto trasecolato in assoluto silenzio chiamando a raccolta le mie facoltà attonite. Subito mi venne da pensare che gli orecchi mi avessero ingannato oppure che Bartleby avesse completamente frenteso quello che volevo. Ripetei la richiesta con quanta chiarezza mi era possibile ma con altrettanta chiarezza aggiunse la risposta di prima. Preferirei di no. Preferirei di no. Ripetei in un eco alzandomi di furia attraversando la stanza di un balzo. Come sarebbe a dire? Le ha dato di volta il cervello su mi aiuti a controllare questo foglio con l'originale prenda e glielo buttai. Preferirei di no disse. Lo fissai con aria risoluta. Il volto era smunto nella sua compostezza. Gli occhi grigi fiocchi e tranquilli. Non una grinza gli incrispava il viso. Se ci fosse stato un sintomo anche minimo di disagio di rabbia di insofferenza di impertinenza in altre parole se ci fosse stato in lui qualcosa di normalmente umano lo avrei cacciato con brutalità dal mio ufficio. Ma così come stavano le cose tanto valeva che decidessi di buttare fuori dalla porta il palido busto in gesso di cicerone. Restai a fissarlo per qualche tempo mentre continuava a scrivere quindi mi rimisi alla scrivania. È ben strano. Pensai. Che fare? Ma il lavoro incalzava conclusi di dimenticare intanto la faccenda riservandola un attimo di calma in futuro. Chiamai quindi Pansnay che venne dall'altra stanza e rapidamente controllammo il documento. Alcuni giorni più tardi Bartelby terminò quattro lunghi atti altrettante copie di una settimana di testimonianze prestate davanti a me nell'alta corte di equità. Si rese necessario controllarli. Si trattava di una causa importante che imponeva la massima accuratezza. Sistemato tutto chiamai Tacchino Pansnay Zenzero che erano nella stanza attigua con l'intenzione di dare a ciascuno dei miei quattro impiegati una copia del documento mentre io avrei letto l'originale. Obbedendo al mio ordine Tacchino Pansnay Zenzero si erano seduti in fila l'uno accanto all'altro ciascuno con la sua copia in mano. Quando chiamai Bartelby a raggiungere questo interessante gruppetto Bartelby si sbrighi aspetto percepì il lento stridio delle gambe della sedia contro il pavimento nudo e subito dopo apparvi in piedi all'imbocco del suo eremo che cosa le serve chiese Mite le copie le copie rispose in fretta stiamo per confrontarle ecco egli porse il quarto esemplare preferirei di no disse e lievemente scomparve dietro il paravento rimasi di sale per qualche istante lì in piedi alla testa della colonna degli impiegati seduti riavendomi avanzai verso il paravento e gli chiesi ragioni di una condotta tanto inconsueta perché rifiuta preferirei di no con chiunque altro sarei esploso e senza sprecare altro fiato l'avrei cacciato con ignominia del mio cospetto ma c'era in Bartleby qualcosa che non soltanto stranamente mi disarmava ma anche in modo curioso mi toccava e sconcertava cominciai a ragionare con lui sono le sue copie che ci accingiamo a controllare le risparmia fatica perché un unico controllo serve per tutte e quattro si fa sempre così i copisti sono tenuti a controllare le loro copie non è così non intende dire niente risponda preferisco di no rispose con voce flautata mi parve che mentre mi rivolgevo a lui egli soppesasse con attenzione ogni mia frase ne comprendesse pienamente il significato non potesse confutare l'ineluttabile conclusione ma che nello stesso tempo una qualche suprema considerazione lo costringesse a rispondere in quel modo lei è deciso allora non adeguarsi alla mia richiesta una richiesta conforme all'uso comune e al comun buonsenso mi fece brevemente capire che su quel punto la mia valutazione era corretta sì la sua decisione era irrevocabile non è infrequente che un uomo urtato in modo inconsueto e violentemente irragionevole cominci a dubitare delle proprie convinzioni fondamentali comincia per così dire a congetturare in modo vago che per quanto strano la ragione e il diritto stiano forse dall'altra parte di conseguenza se sono presenti persone neutrali si rivolge a costori in cerca di un sostegno per la mente che vacilla tacchino dissi che ne pensa non ho ragione con rispetto signore rispose tacchino nel suo tono più blando penso di sì pansnè che cosa ne pensa lei penso che lo butterei fuori a calci il lettore attento e sensibile intuirà che essendo mattina la risposta di tacchino è formulata con espressioni cortesi e pacate ma che pansnè replica con malumore ovvero per ripetere una frase detta in precedenza il cattivo umore di pansnè era in servizio mentre quello di tacchino era in licenza zenzero dissi desideroso di raccogliere il consenso anche più insignificante che cosa ne pensi tu penso signore che sia un po' sfasato rispose zenzero con un sogghigno ha sentito quello che dicono chiesi volgendomi verso il paravento su venga qui e faccia il suo dovere non si degnò di rispondere rimasi a ponderare per un attimo risentito e perplesso ma ancora una volta incalzato dal lavoro decisi di rimandare a un momento di calma la valutazione del dilemma con qualche difficoltà riuscimmo a venire a capo di quel lavoro di controllo sebbene ogni una o due pagine tacchino con deferenza esprimesse l'opinione che si trattava di procedura assai inconsueta mentre pansnè agitandosi sulla sedia con nervosismo di spettico digrignava denti stretti e si bilava di tanto in tanto improperi contro il cocciuto idiota dietro il paravento e da parte sua di pansnè quella era la prima e l'ultima volta che avrebbe fatto il lavoro di un altro senza essere pagato bartelby nel frattempo se ne stava nel suo eremo dimentico di tutto tranne che del documento davanti a sé trascorsero alcuni giorni che videro lo scrivano impegnato in un altro lunghissimo lavoro la stranezza del suo comportamento da un po' di tempo a quella parte mi portò a osservare da vicino i suoi modi notai che non andava mai a pranzo anzi che non andava mai da nessuna parte per quanto ne sapessi non mi risultava che fosse mai uscito dall'ufficio eterna sentinella nel suo angolo osservai che verso le undici del mattino zenzero avanzava verso il pertugio nel paravento di bartelby quasi fosse stato convocato da un cenno invisibile da dove ero seduto io il ragazzo allora usciva facendo tintinnare qualche moneta e riappariva con una manciata di focaccine che depositava nell'eremo ricevendo due dolcetti per il fastidio vive di focaccine allora pensai non fa mai un vero e proprio pranzo sarà vegetariano ma che non mangia mai verdure mangia soltanto focaccine allo zenzero cominciai allora a rincorrere con il pensiero fantasie sui presumibili effetti che avrebbe potuto produrre sull'organismo umano un nutrimento esclusivamente a base di focaccine allo zenzero si chiamano così perché uno dei principali ingredienti e quello che dà il sapore è lo zenzero ora che cos'è lo zenzero una cosa piccante speziata bartelby era piccante speziato niente affatto lo zenzero quindi non aveva alcun effetto su bartelby probabilmente egli preferiva che non ne avesse nulla esaspera una persona seria quanto la resistenza passiva se l'individuo cui si resiste non è di temperamento disumano e chi gli resiste è una persona innocua nella sua passività allora il primo quando è di buon umore si sforza nella sua immaginazione di capire con la carità quanto si dimostra impossibile da spiegare con la ragione così per lo più consideravo bartelby e le sue maniere poveraccio pensavo non ha intenzioni malvagie è chiaro che non vuole essere insolente basta guardarlo per capire che le sue eccentricità sono involontarie mi è utile riesco ad andarci d'accordo se lo mando via è probabile che capiti con un principale meno indulgente sarà trattato male rischi addirittura di morirti fame sì ecco che a basso prezzo posso crogiolarmi nell'autocompiacimento mostrarmi amico di bartelby assecondarlo nella sua ostinazione mi costerà poco o niente mentre io accumulo nell'animo quello che finirà per dimostrarsi un dolce bocconcino per la mia coscienza ma non sempre ero di questo umore la passività di bartelby a volte mi irritava mi sentivo stranamente pungolato a venire ai ferricorti con lui in un nuovo contrasto a far scattare una qualche scintilla di rabbia che rispondesse alla mia ma tanto valeva che cercassi di accendere il fuoco strofinando le nocche contro un pezzo di sapone windsor ma un pomeriggio in me prevalse l'impulso malvagio e ne seguì questa breve scena bartelby dissi quando quei documenti saranno stati copiati tutti li confronterò insieme a lei preferirei di no come? non vorrei incaponirsi in quel suo ostinato capriccio? nessuna risposta spalancando le porte pieghevoli lì vicino esclamai rivolto a tacchino e pansnè bartelby per la seconda volta dichiara di non voler esaminare le sue copie che ne pensa tacchino? era di pomeriggio ricordatevene tacchino se ne stava seduto irradiando luce e calore come una pentola di rame la testa calva fumava le mani turbinavano fra le carte macchiate che ne penso? ruggì tacchino ecco che cosa penso vado dietro a quel paravento a fargli due occhi neri così dicendo tacchino alzatosi in piedi e assunse una posizione da pugile stava per slanciarsi a mantenere la promessa quando lo trattenni allarmato per aver incautamente suscitato la sua combattività post-prandiale si sieda tacchino dissi e ascolti quello che ha da dire pansnè che ne pensa pansnè non avrei buone ragioni per licenziare bartelby su due piedi? con sua licenza signore è lei che deve decidere ritengo che la sua condutta sia assai inconsueta e in vero ingiusta nei confronti miei di tacchino ma forse si tratta di un capriccio momentaneo ah esclamai strano lei ha cambiato idea allora ne parla con molta indulgenza tutto merito della birra intervenne tacchino la comprensione effetto della birra io e pansnè abbiamo pranzato insieme oggi guardi quanto sono comprensivo io signore devo andare a fargli due occhi neri a bartelby immagino no non oggi tacchino risposi giù quei pugni la prego chiusi le porte e di nuovo mi avvicinai a bartelby mi sentivo ancora più pungolato a sfidare la sorte ardevo dalla voglia che mi si rivoltasse di nuovo contro ricordai che bartelby non usciva mai dall'ufficio bartelby dissi zenzeroi fuori le spiace fare un salto all'ufficio postale erano tre minuti di strada veda se c'è qualcosa per me preferirei di no non vuole andare preferisco di no barcollando andai alla scrivania e mi sedetti in profonda riflessione rispuntò in me un'animosità cieca potevo espormi a un altro ignominioso rifiuto da parte di quel disgraziato macilento e squattrinato dal mio dipendente che altra richiesta assolutamente ragionevole di sicuro rifiuterà ancora bartelby nessuna risposta bartelby a voce più alta nessuna risposta bartelby con un rugito proprio come gli spettri obbediscono alle leggi delle invocazioni magiche al terzo appello bartelby sulla soglia del suo eremo vada di là e dica pansne di venire da me preferisco di no disse piano con voce rispettosa e lieve sparì molto bene bartelby disse nel tono tranquillo serenamente severo e controllato che annuncia l'irremovibile decisione di un incombente terribile castigo in quel momento aveva una mezza intenzione del genere ma dopo tutto avvicinandosi l'ora di cena pensai che fosse meglio prendere il cappello e ritornare a casa per quel giorno assai combattuto perplesso e turbato devo confessarlo la conclusione di tutta la faccenda fu questa divenne ben presto un dato di fatto nel mio ufficio che lì aveva la sua scrivania uno scrivano giovane pallido di nome Bartleby che egli copiava per me alla tariffa normale di quattro centesimi al foglio cento parole che era in permanenza esentato dal controllare il proprio lavoro e che tale incombenza era trasferita a Tacchino e Pansné in omaggio senza dubbio alla loro superiore perspicacia inoltre che mai per nessuna ragione il detto Bartleby doveva essere spedito a sbrigare neanche il più banale incarico e che per quanto lo si supplicasse di svolgerlo era scontato che avrebbe preferito di no in altre parole che avrebbe rifiutato di punto in bianco con il passare delle giornate mi riconciliai con Bartleby la sua perseveranza l'indipendenza da ogni vizio la sua industriosità indefessa tranne quando in piedi dietro il paravento sceglieva di sprofondarsi in fantasticherie l'immobilità l'inalterabile compostezza in ogni circostanza facevano di lui un acquisto prezioso ed ecco una cosa fondamentale era sempre lì il primo al mattino ininterrottamente durante la giornata l'ultimo alla sera avevo nella sua onestà una fiducia assoluta i più preziosi documenti li sentivo perfettamente al sicuro in mano sua talvolta senza dubbio non riuscivo con tutta la buona volontà non andare in escandescenze contro di lui era infatti oltremodo difficile tenere sempre a mente quelle strane abitudini quei privilegi quegli inauditi esoneri che costituivano il tacito patto in base al quale bartelby rimaneva nel mio ufficio di tanto in tanto nella fretta di sbrigare un affare urgente senza pensarci chiamavo bartelby in tono secco e spiccio a mettere il dito su un pezzo di nastro rosso che ero in procinto di annodare per tenere insieme certi documenti superfluo naturalmente che da dietro il paravento veniva la sua consueta risposta preferirei di no e allora come avrebbe potuto un essere umano con le comuni debolezze insite nella nostra natura trattenersi dall'imprecare amaramente davanti a tanta caparbietà tanta irragionevolezza comunque a ogni successivo rifiuto che ricevevo le probabilità che ripetesse l'inavvertenza tendevano a diminuire va detto a questo punto che secondo l'abitudine di quasi tutti gli avvocati con lo studio instabili densamente popolati destinati a uffici molte persone avevano la chiave della mia porta una l'aveva una donna che viveva in soffitta e ogni settimana ripuliva da cima a fondo i miei locali e ogni giorno li scopava e spolverava un'altra la teneva tacchino per comodità la terza la portavo a volte io in tasca la quarta non sapevo chi l'avesse ora una domenica mattina capitandomi di andare alla chiesa della santissima trinità per ascoltare un famoso predicatore e trovandomi in zona piuttosto in anticipo pensai di fare un salto in ufficio per fortuna avevo la chiave con me ma nell'infilarla nella toppa mi stupì di non riuscirci perché qualcosa vi si opponeva dall'interno alquanto sorpreso chiamai ad alta voce quando con mia costernazione una chiave girò all'interno e nella fessura della porta socchiusa mi trovai di fronte Bartleby che con il viso smonto in maniche di camicia e in una tenuta ad esabiglie stranamente lacera mi diceva con tutta calma di rammaricarsene ma in quel momento aveva molto da fare e preferiva non ammettermi aggiunse quindi poche parole per consigliarmi di fare il giro dell'isolato due o tre volte perché in capo a quell'intervallo avrebbe probabilmente concluso le sue faccende ora l'apparizione assolutamente in attesa di Bartleby che occupava il mio studio la domenica mattina con la sua signorile nonchalance cadaverica ma nello stesso tempo risoluta e controllata ebbe un tale effetto su di me che di slancio sgattaiolai via dalla mia porta e feci come desiderava ma non senza vari fremiti di ribellione impotente contro la mite sfrontatezza di quell'indecifrabile scrivano era infatti soprattutto la sua stupefacente docilità che non soltanto mi disarmava ma per così dire mi rendeve impotente ritengo infatti una sorta di impotenza l'atteggiamento di chi tranquillamente permette al suo impiegato di dargli degli ordini e di mandarlo via dai suoi locali senza contare che mi sentivo molto inquieto che cosa poteva fare Bartleby nel mio ufficio in maniche di camicia e per il resto impresentabile la mattina di una domenica c'era qualcosa che non quadrava no era fuori questione neppure per un momento si poteva pensare che Bartleby fosse una persona immorale ma che cosa ci faceva lì copiare no neppure questo quali che fossero le sue eccentricità Bartleby era una persona eminentemente decorosa sarebbe stato l'ultimo uomo a sedersi alla scrivania in uno stato prossimo alla nudità inoltre era domenica e qualcosa in Bartleby vietava di supporre che potesse trasgredire con un'occupazione secolare la dignità della giornata il mio animo tuttavia non era tranquillo e in preda a un'irrequieta curiosità ritornai infine davanti alla porta senza difficoltà infilai la chiave ed entrai Bartleby non si vedeva guardai intorno con ansia sbirciai dietro il suo paravento ma era chiaro che se n'era andato esaminando con attenzione il luogo conclusi che chissà da quanto tempo Bartleby doveva mangiare vestirsi dormire nel mio ufficio il tutto senza un piatto senza un letto senza uno specchio il sedile imbottito di un vecchio divano traballante in un angolo mostrava la lieve impronta di una forma sparuta che lì si era coricata arrotolata sotto la sua scrivania trovai una coperta sotto la grata vuota del camino una scatola di lucido e una spazzola su una sedia una bacinella di latta con del sapone e un asciugamano cencioso in un giornale alcune briciole di focaccine e un pezzetto di formaggio sì pensai è evidente che Bartleby si è installato qui una sistemazione da scapolo tutto per conto suo immediatamente mi sentì pervadere dal pensiero che squalli da solitudine che isolamento ci sono qui sotto i miei occhi la sua povertà è grande ma la sua solitudine che cosa orribile pensaci alla domenica Wall Street è deserta come Petra la notte alla fine di ogni giornata è il vuoto questo edificio che nei giorni feriali brulica di operosità e di vita di notte rimanda l'eco del nulla e durante tutta la domenica è abbandonato e Bartleby ha scelto questo luogo come propria casa unico spettatore di una solitudine a chi ha visto gremita una specie di novello innocente Mario che medita fra le rovine di Cartagine per la prima volta in vita mia fui sopraffatto da un senso di ineluttabile struggente malinconia prima di allora non avevo mai sperimentato altro che un triste languore non sgradevole il vincolo della comune umanità mi trascinava irresistibilmente verso un cupo sconforto una malinconia fraterna sì io e Bartleby eravamo entrambi figli di Adamo ricordai le vivide sete e i volti raggianti che avevo visto quel giorno persone agghindate a festa che simili a Cigni veleggiavano lungo quel Mississippi che è Broadway e confrontandoli con il pallido copista mi dissi ah la felicità corteggia la luce ecco perché crediamo che il mondo sia lieto ma l'infelicità si nasconde e si isola ecco perché crediamo che non ci sia infelicità queste tristi fantasticherie senz'altro chimere di un cervello malato e sciocco condussero ad altri pensieri più circostanziati sull'eccentricità di Bartleby aleggiava intorno a me il presentimento di qualche strana scoperta mi parve di vedere la pallida forma dello scrivano abbolta in un sudario gelido giacere fra gente sconosciuta incurante all'improvviso fui attratto dalla scrivania chiusa di Bartleby con la chiave in bella mostra nella toppa non voglio fare nulla di male non intendo soddisfare una crudele curiosità pensavo la scrivania inoltre è di mia proprietà è anche quello che contiene così prenderò il coraggio di guardare dentro tutto era disposto in ordine metodico i fogli in pile regolari gli scomparti erano profondi e spostando i fascicoli delle pratiche tastai fino in fondo dopo un poco toccai qualcosa e la trassi fuori era un vecchio fazzoletto di cotone pesante e annodato apparendolo vidi che era il suo salvadanaio mi sovvegni allora di sommessi misteri che avevo notato in quell'uomo rammentai di non averlo mai sentito parlare se non per rispondere di non averlo mai visto leggere no neppure un giornale sebbene di tanto in tanto avesse abbastanza tempo per sé ricordai che per lunghi intervalli se ne stava in piedi accanto alla sua pallida finestra dietro il paravento a guardare fuori il muro cieco di mattoni ero sicuro che non andasse mai a una mensa o a una trattoria mentre il suo volpe sangue indicava chiaramente che non beveva mai birra come faceva Tacchino e neppure tè o perfino caffè come gli altri esseri umani che non andava mai in alcun posto particolare di mia conoscenza che non usciva mai a fare una passeggiata a meno che non ci fosse andato in quel momento che aveva sempre evitato di dirmi chi fosse da dove venisse e se avesse parenti al mondo che seppure così scarno ed emaciato non si lamentava mai di star male e soprattutto lamentavo una certa aria inconsapevole di pallido come chiamarlo pallido sussiego anzi un alone di austero riserbo che mi aveva intimorito fino a ridurmi a quella docile accettazione delle sue eccentricità quando aveva ormai paura di chiedergli di rendermi il più insignificante servizio sebbene potessi capire dalla protratta immobilità che dietro il paravento se ne stava probabilmente in piedi perso in una di quelle sue fantasticherie trasognate davanti al muro cieco rimuginando tutte queste cose collegandole alla recente scoperta che del mio ufficio Bartleby aveva fatto il suo alloggio permanente e la sua casa non dimentico della sua morbosa suscettibilità rimuginando tutto questo prese a insinuarsi in me un sentimento di prudenza le mie prime emozioni erano state di pura malinconia e di sincera autentica pietà ma a mano a mano che la solitudine e l'isolamento di Bartleby crescevano nella mia immaginazione quella stessa malinconia trascolorava in paura quella pietà in repulsione è così vero e anche così terribile che fino a un certo punto il pensiero o la vista dell'infelicità impegnano i nostri migliori sentimenti ma in certi casi speciali oltre a un certo punto non succede più sbagliano quanti asseriscono che invariabilmente ciò deriva dall'innato egoismo del cuore umano discende piuttosto da una certa impotenza a porre rimedio a un male estremo e organico per un essere sensibile la pietà non dirado è sofferenza e quando alla fine si intuisce che tale pietà non si traduce in un efficace soccorso il senso comune impone all'animo di sbarazzarsene quanto vidi quella mattina mi convinse che lo scrivano era vittima di un disordine innato e incurabile avrei forse potuto soccorrere il corpo ma non era il corpo a dolergli era la sua anima che soffriva e non potevo raggiungere la sua anima lasciai cadere il proposito di andare alla chiesa della Santissima Trinità quel mattino mi sentivo in qualche modo indegno dopo le cose che avevo visto mi incamminai verso casa pensando a cosa avrei fatto con Bartleby alla fine mi risolsi su quanto segue il mattino dopo gli avrei rivolto alcune pacate domande sul suo passato eccetera e se avesse rifiutato di rispondere in modo aperto e senza riserve presumevo che avrebbe preferito di no gli avrei allora dato una banconota da 20 dollari oltre a quanto già eventualmente gli dovevo dicendogli che i suoi servizi non erano più richiesti ma che se in qualunque altro modo avessi potuto aiutarlo sarei stato felice di adoperarmi in tal senso soprattutto se avesse desiderato ritornare laddove era nato non importa dove fosse avrei volentieri contribuito alle spese inoltre se una volta arrivato a casa in un momento qualsiasi si fosse trovato bisognoso di aiuto una sua lettera avrebbe certamente avuto risposta giunse il mattino successivo Bartleby disse rivolgendomi gentilmente a lui dietro il paravento nessuna risposta Bartleby disse in tono ancora più gentile venga qui non le chiederò di fare nulla che lei preferisca non fare desiderò soltanto parlarle a queste parole silenziosamente scivolò fuori vuole dirmi Bartleby dove è nato preferirei di no non vuole raccontarmi niente di sé preferirei di no quale ragionevole obiezione ha per non parlarmi ho nei suoi confronti sentimenti amichevoli non mi guardava mentre parlavo ma teneva gli occhi fissi sul busto di cicerone dietro alla mia sedia circa a sei pollici sopra la mia testa che cosa mi risponde Bartleby proseguì dopo aver aspettato una sua risposta per un bel po' di tempo mentre il suo volto rimaneva immobile salvo un tremore quasi impercettibile delle labbra pallide e sottili per il momento preferisco non rispondere disse e si ritirò nel suo eremo fu una mia debolezza lo confesso ma in quel momento i suoi modi mi irritarono non soltanto mi sembrava che nascondessero un certo pagato disprezzo ma la sua caparbietà mi pareva ingratitudine considerando gli innegabili benefici e l'indulgenza che aveva avuto da me ancora una volta me ne rimasi lì seduto a rimuginare su quello che avrei dovuto fare mortificato come ero per il suo comportamento e altrettanto risoluto a licenziarlo quando era arrivato in ufficio avvertivo un timore superstizioso che mi si agitava in fondo al cuore vietandomi di mettere in atto quel proposito dandomi del mascalzone se avessi usato proferire una sola parola amara contro di lui il più derilitto degli uomini da ultimo avvicinando con piglio confidenziale la mia sedia alla sua dietro il paravento mi sedetti dicendo Bartleby non importa se non mi racconta la sua storia ma mi consenta di supplicarla da amico di adeguarsi per quanto possibile alle abitudini dell'ufficio mi prometta che domani o il giorno appresso aiuterà a controllare i documenti in breve mi prometta che fra un giorno o due comincerà a essere un po' ragionevole dica di sì Bartleby per il momento preferirei non essere un po' ragionevole fu la risposta suavemente cadaverica proprio in quel momento si aprirono le porte pieghevoli e si avvicinò Pansnì aveva l'aria sofferente di chi ha passato una notte particolarmente brutta dovuta a una digestione peggiore del solito colse le ultime parole di Bartleby preferirebbe di no ringhio Pansnì lo preferirei io se fossi lei signore rivolto a me lo preferirei io gli darei io le preferenze a quel mulo cocciuto scusi signore cos'è che preferisce non fare adesso Bartleby non battecì io signor Pansnì preferirei che lei si ritirasse per il momento dissi in qualche modo da un po' di tempo avevo preso involontariamente l'abitudine di usare la parola preferire a ogni piesso spinto anche fuori luogo tremavo all'idea che la vicinanza dello scrivano avesse già e in modo grave compromesso il mio equilibrio mentale quali altre e peggiori aberrazioni non avrebbe potuto produrre questa apprensione aveva avuto la sua parte nella decisione di prendere drastiche misure mentre Pansnì si allontanava con aria acida e scontrosa si avvicinò beato e ossequioso Tacchino con rispetto signore disse ieri mi sono messo a pensare al nostro Bartleby secondo me se solo lo preferisse un quarto di buona birra al giorno farebbe molto nel curarlo e metterlo in sesto per aiutare a controllare i documenti così anche lei è rimasto contagiato dalla parola dissi leggermente eccitato con rispetto signore quale parola chiese Tacchino ficcandosi nel ristretto spazio dietro il paravento e così facendo mandandomi a ortare lo scrivano quale parola signore preferirei essere lasciato solo qui disse Bartleby quasi offeso per quell'invasione nel suo spazio privato ecco la parola Tacchino dissi eccola oh preferire oh sì strana parola non la uso mai io ma signore come stavo dicendo se preferisse Tacchino lo interruppi si ritiri per favore certamente signore se lei preferisce così mentre apriva la porta pieghevole per ritirarsi Pansnè lanciandomi un'occhiata dalla sua scrivania mi chiese se preferissi che un certo documento venisse copiato su carta azzurro o bianca non sottolineò con accento malizioso la parola preferire era chiaro che gli era sfuggita dalle labbra in modo involontario devo sbarazzarmi senz'altro di questo demente che ha già in certa misura turbato la lingua se non il cervello mio e dei miei impiegati pensai fra me ma ritenni prudente non spiattellargli lì per lì licenziamento il giorno successivo notai che Bartleby non faceva nulla salvo starsene in piedi alla finestra perso nella fantasticheria ispiratagli dal muro cieco quando gli chiesi perché non scrivesse rispose di aver deciso di non scrivere più come? anche questo adesso? cos'altro? esclamai non vuole più scrivere? no per quale ragione? non capisce da sé la ragione? rispose con indifferenza lo guardai fisso e notai che i suoi occhi apparivano spenti e vidri mi venne subito da pensare che l'impareggiabile diligenza durante le prime settimane del suo impiego presso di me nel copiare accanto a quella buia finestra gli avesse temporaneamente affaticato la vista ne fui commosso gli espressi il mio rammarico accennai al fatto che naturalmente faceva cosa saggia ad astenersi dallo scrivere per un po' lo incitai a cogliere quell'occasione per fare qualche salutare attività all'aria aperta cosa tuttavia che egli non fece alcuni giorni dopo durante un'assenza degli altri impiegati mi saltò in mente avendo grande premura di spedire certe lettere per posta che Bartleby non avendo nulla al mondo da fare sarebbe stato di sicuro meno inflessibile del solito e avrebbe portato le lettere all'ufficio postale ma rifiutò con aria irremovibile e assente così con notevole disagio ci andai di persona passarono altri giorni se gli occhi di Bartleby migliorassero o meno non saprei di primo acchito avrei detto di sì ma quando gli chiesi conferma non mi accordò risposta in ogni caso non copiava niente alla fine su mia sollecitazione mi rispose di aver smesso di copiare per sempre cosa esclamai supponiamo che i suoi occhi guariscano perfettamente meglio di prima non vorrà più copiare ho smesso di copiare rispose e scivolò via rimase come prima a essere un infisso nel mio studio anzi se è possibile divenne più che mai un infisso che cosa fare non voleva fare nulla nell'ufficio perché allora doveva stare lì per dire la schietta era diventata una pietra al collo un'inutile collana greve da sopportare per giunta eppure mi faceva pena non esagero dicendo che mi metteva a disagio se appena avesse fatto il nome di un solo parente e amico gli avrei scritto immediatamente sollecitandolo a portare quel povero disgraziato in qualche posto adatto ma sembrava solo assolutamente solo nell'intero universo un relitto nel mezzo dell'atlantico alla lunga le tiranniche esigenze del lavoro travolsero ogni altra considerazione con tutto il tatto possibile disse a Bartleby che in capo a sei giorni doveva assolutamente lasciare l'ufficio lo consiglia ed è ad operarsi nel frattempo per trovarsi un altro alloggio mi offrì di aiutarlo in questa fatica purché facessi il primo passo per il trasloco e quando alla fine mi lascerà Bartleby aggiunsi provvederò a che lei non se ne vada del tutto sprovvisto sei giorni da adesso se ne ricordi alla fine di quel periodo guardai dietro il paravento ed ecco Bartleby sempre lì mi abbottonai la giacca mi feci forza avanzai lentamente verso di lui gli toccai la spalla e dissi è venuto il momento deve lasciare questo posto mi spiace per lei ecco il danaro ma deve andarsene preferirei di no rispose sempre con le spalle voltate lei deve andarsene rimase in silenzio ora io avevo illimitata fiducia nell'onestà di quell'uomo spesso mi aveva consegnato monetine da sei centesimi e qualche scellino che avevo sbadatamente lasciato cadere perché sono inclina a essere distratto in queste cosucce quello che seguì non parrà allora fuori dell'ordinario Bartleby dissi le devo dodici dollari per il lavoro svolto eccone trentadue i venti in più sono per lei vuole prenderli? e gli tesi le banconote non si mosse li lascio qui allora dissi mettendoli sul tavolo sotto un fermacarte prendendo quindi cappello e bastone e avviandomi alla porta mi volsi tranquillamente aggiungendo quando avrà portato via le sue cose dall'ufficio Bartleby chiuda la porta ormai se ne sono andati tutti per oggi tranne lei e per favore infili la chiave sotto lo zerbino dove domattina io possa trovarla non la vedrò più addio dunque se in futuro nel suo nuovo alloggio potrò esserle utile non manchi di avvertirmi per lettera addio Bartleby e buona fortuna ma egli non rispose neppure una parola simile all'ultima colonna di un tempio in rovina rimase in piedi muto e solitario nel mezzo della stanza altrimenti deserta incamminandomi verso casa meditabondo la vanità ebbe la meglio sulla pietà non potevo non essere compiaciuto per come avevo magistralmente condotto le cose nel liberarmi di Bartleby magistralmente così mi esprimo e tale deve apparire a ogni pensatore spassionato la bellezza della mia tattica sembrava risiedere nella sua perfetta pacata sobrietà nessuna arroganza volgare nessuna spacconata di alcun tipo nessun soppruso collerico nessun andirivieni concitato per lo studio sbottando in ordini rabbiosi perché Bartleby facesse fagotto con le sue cianfrusaglie da straccione niente del genere senza alzar la voce per ordinargli di andarsene come forse avrebbe fatto un uomo meno perspicace partivo dal presupposto che andarsene doveva e su quel presupposto si fondava tutto quello che avevo da dire più riflettevo su come erano andate le cose più ne ero incantato il mattino dopo tuttavia al risveglio avevo i miei dubbi in qualche modo il sonno aveva smaltito i fumi della vanità uno dei momenti in cui si è più lucidi e saggi è subito dopo il risveglio al mattino mi sembrava ancora di essermi comportato con sagacia ma soltanto in teoria come sarebbe stato in pratica eccolo in toppo era davvero un pensiero meraviglioso supporre che Bartleby se ne fosse andato ma dopo tutto era esclusivamente una mia supposizione non certo di Bartleby il grosso nodo non era che fossi io a supporre bensì che fosse lui a preferire era un uomo di preferenze più che di supposizioni dopo colazione mi incamminai verso lo studio dibattendo le probabilità a favore e quelle contro un attimo pensavo che la mia tattica si sarebbe rivelato un peroso fallimento e che avrei trovato Bartleby piantato nel mio ufficio come al solito un attimo dopo mi pareva certo che avrei trovato vuota la sua sedia così continuavo a cambiare opinione all'angolo di Broadway e Canal Street vidi un gruppo di gente piuttosto agitata impegnata in un'accesa discussione scommetto che non lo fa disse una voce mentre passavo che non se ne va d'accordo dissi fuori i soldi stavo istintivamente mettendo mano alla tasca per tirar fuori la mia posta quando mi ricordai che quello era giorno di elezioni le parole che avevo dito non avevano alcun rapporto con Bartleby ma con il successo o l'insuccesso di un tale candidato alla carica di sindaco assorto come erano i miei pensieri avevo immaginato per così dire che tutta Broadway condividesse il mio turbamento e dibattesse il mio problema li superai grato che il frastuono della strada avesse nascosto la mia momentanea distrazione come avevo deciso giunsi davanti alla porta dell'ufficio prima del solito rimasi lì ad ascoltare per un attimo tutto era tranquillo doveva essersene andato provai la maniglia la porta era chiusa a chiave sì la mia tattica aveva compiuto il miracolo doveva sul serio essersi dileguato eppure un pizzico di melanconia si mescolava a questo ero quasi dispiaciuto per quel brillante risultato stavo frugando sotto lo zerbino alla ricerca della chiave che senz'altro Bartleby aveva lasciato lì per me quando per caso con il ginocchio urtai un pannello producendo un suono come di chi bussa e da dentro in risposta mi giunse una voce un momento sono occupato era Bartleby ne fui folgorato per un attimo rimase in piedi come quel tizio che pipe in bocca era stato ucciso tanto tempo prima in virginia da un fulmine in un terzo pomeriggio d'estate alla sua finestra aperta e tiepida era stato ucciso e lì era rimasto affacciato nell'anguito pomeriggio finché qualcuno toccandolo non lo aveva fatto cadere non se n'è andato mormorai alla fine ma ancora una volta obbedendo a quello strano ascendente che aveva su di me l'imperscrutabile scrivano dal quale ascendente pur con tanta insofferenza non riusciva a sottrarmi del tutto scesi piano le scale uscì in strada e mentre giravo intorno all'isolato soppesai il da farsi in quell'inaudito dilemma buttarlo fuori con la forza non potevo trascinarlo via a suon di insulti non si addiceva chiamare la polizia era un'idea che non mi andava eppure lasciargli assaporare il suo cadaverico trionfo su di me neanche questo potevo ammettere che fare oppure se non si poteva fare niente mi restava qualche altra supposizione in questa faccenda sì come prima in prospettiva ero partito dal presupposto che Bartleby se ne sarebbe andato così ora in retrospettiva potevo partire dal presupposto che andato se ne fosse sviluppando coerentemente tale supposizione sarei potuto entrare in ufficio di gran fretta e fingendo di non vedere Bartleby andare addosso come se fosse statuaria questa tattica avrebbe avuto in grado straordinario tutto l'aspetto di un'espulsione non era possibile che Bartleby riuscisse a sopportare una tale applicazione della dottrina dei presupposti ma ripensandoci il successo del piano pareva piuttosto dubbio decisi di discutere ancora la faccenda con lui Bartleby dissi entrando nell'ufficio con un'espressione pacatamente severa sono profondamente dispiaciuto sono addolorato Bartleby avevo un'opinione migliore di lei l'avevo ritenuto un gentiluomo con il quale sarebbe bastato fare un semplice accenno in qualsiasi frangente delicato un'allusione insomma ma a quanto sembra mi sono ingannato come aggiunsi con un sussulto di sincera sorpresa non ha ancora toccato quel denaro indicandoglielo laddove lo avevo lasciato la sera prima non rispose nulla intende lasciarmi oppure no chiese a questo punto con impeto improvviso avvicinandomi a lui preferirei non lasciarla rispose sottolineando leggermente il non quale diritto al mondo ha mai di restare qui paga l'affitto mi paga le tasse questa casa le appartiene non rispose nulla è disposto a riprendere a scrivere adesso i suoi occhi sono guariti potrebbe copiarmi un breve documento questa mattina oppure aiutarmi a controllare qualche riga oppure fare un salto all'ufficio postale in una parola fare una cosa qualsiasi che giustifichi il suo rifiuto di lasciare l'ufficio in silenzio si ritrasse nel suo eremo mi trovavo in uno stato tale di risentita irritazione che ritenni prudente trattenermi per il momento dal dire altro io e Bartleby eravamo soli mi sovvenne la tragica fine dello sventurato Adams e dell'ancor più sventurato Colt nell'ufficio solitario di quest'ultimo come il povero Colt portato da Adams a un punto di esasperazione estrema abbandonandosi imprudentemente a un furore selvaggio fosse trascinato a commettere il suo fatale gesto senza esserne consapevole un gesto che nessuno avrebbe potuto deplorare più di lui che lo aveva compiuto spesso nel riflettere sul caso mi aveva assalito il pensiero che se l'alterco fosse scoppiato nella pubblica via o in un'abitazione privata non si sarebbe concluso in quel modo era stata la circostanza di trovarsi da solo nell'ufficio deserto al primo piano di uno stabile mai benedetto dall'influsso umanizzante dei rapporti familiari un ufficio dall'assito nudo indubbiamente polveroso e squallido ecco che cosa doveva aver contribuito a esacerbare la rabbia disperata dello sfortunato colt ma quando in me sorse questo rancore quando in me si svegliò il vecchio damo per tentarmi contro Bartleby lo abbrancai e lo rispinsi come? limitandomi a ricordare il comando divino un nuovo comandamento io do a tutti voi che vi amiate l'un l'altro sì fu questo a salvarmi a prescindere da nobili considerazioni la carità spesso opera alla stregua di un principio saggio e prudente una grande salvaguardia per chi la possiede gli uomini hanno ucciso per gelosia per rabbia per odio per egoismo per orgoglio spirituale ma nessun uomo per quanto ne sappia a me ucciso per dolce carità per mero interesse personale allora in mancanza di un motivo migliore tutti specie le persone colleri che dovrebbero praticare la carità e la filantropia in ogni modo nell'attuale situazione cercai con tutte le forze di soffocare la mia esasperazione nei confronti dello scrivano interpretando benevolmente la sua condotta poveretto poveretto pensai non ha cattive intenzioni senza contare che ne ha conosciuti di momenti difficili e bisogna aver pazienza con lui mi sforzai anche di trovare subito qualcosa da fare e nello stesso tempo di dare sollievo al mio sconforto cercai di cullarmi nella fantasia che nel corso della mattinata in un momento che gli fosse andato a genio Bartleby di sua spontanea volontà sarebbe emerso dal suo cantuccio per imboccare con decisione la direzione della porta niente da fare venne la mezza tacchino cominciò a irradiare luce dal volto a rovesciare il calamaio a farsi insofferente pansnesi e acquietò in una cortese compostezza zenzero presa a rosicchiare la mela del pranzo Bartleby in piedi davanti alla finestra era immerso in una delle sue più profonde fantastiche rie sul muro cieco lo si crederà dovrei ammetterlo quel pomeriggio lasciai l'ufficio senza rivolgergli altra parola trascorsero alcuni giorni durante i quali negli intervalli liberi le giucchiavo il trattato di Edwards sulla volontà e quello di Priestley sulla necessità date le circostanze quei libri mi ispirarono sentimenti salutari a poco a poco mi abbandonai alla convinzione che i miei affanni riguardanti lo scrivano fossero stati predestinati dall'eternità e che Bartleby mi fosse stato assegnato per qualche misterioso scopo da un'oniscente provvidenza imperscrutabile per un semplice mortale come me sì Bartleby statene lì dietro il tuo paravento pensavo non ti perseguiterò più sei innocuo e silenzioso come una di queste vecchie sedie in breve non mi sento mai così solo come quando so che sei lì perlomeno lo vedo lo percepisco intuisco lo scopo predestinato della mia vita mi basta altri forse avranno ruoli più nobili da interpretare ma la mia missione nel mondo Bartleby è di darti una stanza d'ufficio per tutto il tempo che ti andrà di rimanervi sono convinto che avrei persistito in questa sagge e beata disposizione se non fosse stato per le osservazioni gratuite e impietose lanciatemi dai colleghi che venivano nel mio studio spesso accade che la contiguità con animi poco liberali finisca con illogorare i migliori propositi degli animi generosi riflettendoci tuttavia non era strano a ben pensarci che quanti entravano nel mio ufficio colpiti dall'aspetto peculiari dell'inesplicabile e Bartleby fossero tentati di buttare lì qualche commento perfido su di lui a volte veniva nello studio questo o quel procuratore che aveva affari con me e non trovando nessuno tranne lo scrivano si adoperava per ottenere da lui qualche indicazione su dove io fossi ma Bartleby indifferente a quelle vane chiacchiere se ne rimaneva immobile in piedi in mezzo alla stanza e il procuratore dopo averlo contemplato in quella posizione per qualche tempo se ne andava senza aver saputo nulla oppure quando si svolgeva un arbitrato con l'ufficio gremito di avvocati e testimoni mentre il lavoro urgeva qualche legale presente immerso nelle sue occupazioni vedendo Bartleby che non faceva assolutamente nulla gli chiedeva di andare di corsa nel suo ufficio del legale a prendergli qualche documento al che Bartleby tranquillamente rifiutava restandosene con le mani in mano come prima il legale a questo punto sgranando gli occhi si volgeva verso di me che cosa potevo dire alla fine mi resi conto che nella cerchia delle mie conoscenze professionali circolavano sussurri di sorpresa per la strana creatura che tenevo nello studio questo mi preoccupò molto e mentre si faceva strada il pensiero che potesse magari essere un uomo longevo e continuare a occupare i miei locali a rifiutare la mia autorità a mettere in imbarazzo i miei visitatori a screditare la mia reputazione professionale a gettare un'ombra sinistra sull'ufficio tenendo l'anima stretta coi denti fino all'ultimo centesimo dei suoi risparmi non c'era dubbio infatti che spendesse al massimo cinque centesimi al giorno e finisse con il sopravvivermi avanzando pretese sulla proprietà degli uffici per uso capione con la sua occupazione perpetua mentre tutti questi cupi presagimi si affollavano in mente sempre più pressanti e mentre i miei amici irriducibili di continuo mi imponevano le loro osservazioni sul fantasma dell'ufficio un grande mutamento si operò in me decisi di raccogliere tutte le mie energie e liberarmi una volta per tutte di quell'intollerabile incubo prima di elaborare un piano complicato adatto allo scopo mi limitai a suggerire a Bartelby l'opportunità di una sua partenza definitiva in tono calmo e grave gli sottoposi l'idea invitandolo a valutarla con matura ponderazione ma dopo essere stato tre giorni a meditarvi mi comunicò che rimaneva invariata la sua originaria decisione in breve preferiva ancora alloggiare da me che cosa farò mi disse abbottonandomi la giacca fino all'ultimo bottone che cosa farò che cosa dovrei fare che cosa in coscienza sarei tenuto a fare di quest'uomo anzi di questo fantasma sbarazzarmene dovevo andarsene dovrà ma come non lo butterai fuori quel pover uomo pallido passivo non butterai fuori una creatura tanto inerme non ti disonorerai commettendo una tale crudeltà no non lo farò non posso farlo lo lascio piuttosto vivere e morire qui per murare poi le sue spoglie nella parete che cosa farai allora puoi blandirlo ma non lo smuoverai i soldi che gli dai per convincerlo li lascia sotto il fermacarte sul tuo tavolo è evidente insomma che preferisce aggrapparsi a te allora è necessario prendere misure drastiche straordinarie cosa non vorrai farlo ammanettare da un poliziotto affidando a un carcere comune la sua esangue innocenza e poi per quali motivi potresti ottenere una cosa simile è un vagabondo come un vagabondo uno senza fissa dimora lui che si rifiuta di muoversi è proprio perché non è un vagabondo che cerchi di farlo passare per vagabondo troppo assurdo nessun mezzo di sostentamento evidente ecco che lo impugno no sbagliato di nuovo ha di che vivere senza dubbio l'essere vivi è l'unica prova inconfutabile che si ha di che vivere niente da fare allora poiché non sarà lui a lasciare me sarò io a lasciare lui cambierò ufficio andrò altrove lo avvertirò nei dovuti modi che semmai lo troverò nei miei nuovi locali procederò contro di lui per violazione di domicilio il giorno successivo agendo di conseguenza così mi rivolse a lui trovo che questo ufficio sia troppo lontano dal municipio senza contare che l'aria non è buona insomma ho intenzione di traslocare la prossima settimana e non avrò più bisogno dei suoi servigi glielo dico oggi perché possa trovarsi un altro posto non rispose nulla e null'altro fu detto nel giorno fissato noleggiati carri e uomini andai in ufficio e avendo soltanto pochi mobili in poche ore fu portata via ogni cosa per tutto il tempo lo scrivano se ne rimase in piedi dietro il paravento che ordinai di portar via per ultimo fu tolto e piegato come un enorme foglio lo lasciò inquilino immobile di una stanza spoglia mi fermai sulla soglia guardandolo per un momento mentre dentro di me qualcosa mi rimordeva ritornai indietro con la mano in tasca e il cuore in gola addio Bartleby me ne vado addio e Dio la protegga in qualche modo prenda facendogli scivolare qualcosa in mano ma finì a terra e allora strano a dirsi dovetti fare uno sforzo per strapparmi da lui e sì che avevo tanto desiderato sbarazzarmene nel mio nuovo studio per un giorno o due teni la porta chiusa a chiave trasalendo ogni rumor di passi nel corridoio ritornando in ufficio dopo un'assenza anche brevissima induggiavo sulla soglia per un attimo tendendo l'orecchio con attenzione prima di infilare la chiave ma erano paure superflue Bartleby non venne mai da me pensavo che tutto andasse per il meglio quando venne a trovarmi uno sconosciuto dall'aria sconvolta chiedendomi se fossi io la persona che ultimamente aveva occupato i locali al numero di Wall Street in preda a cupi presentimenti risposi di sì allora signore disse lo sconosciuto che risultò essere un avvocato lei è responsabile dell'uomo che si è lasciato dietro rifiuta di copiare rifiuta di fare qualsiasi cosa dice che preferisce di no rifiuta di lasciare i locali ne sono desolato signore risposi fingendomi calmo sebbene tremassi dentro di me ma l'uomo cui lei allude non è niente per me non è un mio parente non è neppure un apprendista per il quale lei potrebbe ritenermi responsabile in nome del cielo chi è non sono in grado di dirglielo non so nulla di lui in passato lo assunsi come copista ma da un po' di tempo non fa niente per me lo sistemerò io allora buongiorno signore trascorsero parecchi giorni e non ne seppi più nulla se anche a volte mi sentivo spinto da un impulso caritatevole da andare a trovare il povero Bartleby tuttavia mi trattenevo una certa ripugnanza per chissà che cosa ormai è sistemato pensai alla fine quando per tutta la successiva settimana non ebbi altre notizie di lui ma arrivando nello studio il giorno dopo trovai in attesa davanti alla mia porta varie persone agitatissime eccolo arriva gridò il portavoce che riconobbi come l'avvocato è venuto da me in precedenza deve portarselo via immediatamente signore gridò avvicinandosi a me un signor distinto che sapevo essere il proprietario dello stabile al numero di Wall Street questi signori miei inquilini non lo tollerano più il signor b indicando l'avvocato l'ha messo fuori del suo ufficio e lui adesso si ostina a funestare l'intera casa sedendosi sulla ringhiera delle scale di giorno e dormendo nell'ingresso di notte ne sono tutti preoccupati i clienti se ne vanno serpeggia la paura di una sommossa bisogna intervenire e senza perdere tempo atterrito da quel torrente di parole indietreggiai e sarei stato contento di chiudermi a chiave nel mio nuovo studio invano continuai a insistere che bartelby non era niente per me non più di chiunque altro invano risultavo essere io l'ultima persona che aveva avuto a che fare con lui e dovevo rendere conto della terribile situazione timoroso dunque di finire sui giornali come minacciò oscuramente uno dei presenti considerai la faccenda e dopo un po' dissi che se l'avvocato mi avesse concesso di parlare allo scrivano in privato nel suo ufficio dell'avvocato quel pomeriggio mi sarei adoperato al massimo per liberarlo del fastidio all'origine delle sue recriminazioni salendo le scale verso la mia vecchia tana ecco bartelby che in silenzio se ne stava seduto sulla ringhiera del pianerottolo che cosa fa qui bartelby chiesi sto seduto sulla ringhiera rispose mitemente gli feci cenno di entrare nell'ufficio dell'avvocato che subito se ne andò bartelby dissi si rende conto che mi fa tribolare ostinandosi a occupare l'ingresso dopo essere stato licenziato dall'ufficio nessuna risposta ora una delle due o lei fa qualcosa oppure qualcosa va fatto a lei in che lavoro le piacerebbe impegnarsi vorrebbe riprendere a copiare per qualcuno no preferirei non fare cambiamenti vorrebbe fare il contabile in una drogheria si sta troppo al chiuso no non mi va di fare il contabile ma non faccio il difficile troppo al chiuso esclamai ma se lei se ne sta sempre rinchiuso preferirei non fare il contabile aggiunse come sistemare subito quella piccola questione le andrebbe di lavorare in un bar in quel mestiere non ci si sforza gli occhi non mi piacerebbe affatto anche se come ho già detto non faccio il difficile l'insolita loquacità mi chiede un'ispirazione ritornai alla carica le piacerebbe allora viaggiare per tutto il paese a riscuotere i crediti per i commercianti le farebbe bene alla salute no preferirei fare qualcos'altro che ne direbbe di andare in Europa al seguito di qualche giovane gentiluomo per intrattenerlo con la sua conversazione le andrebbe per niente non mi pare che ci sia niente di stabile mi piace stare fermo in un posto ma non faccio il difficile è fermo in un posto allora se ne starà esclamai perdendo la pazienza e sbottando di rabbia per la prima volta nella storia dei miei esasperanti rapporti con lo scrivano se lei non se ne va da questo stabile prima di sera sarò costretto anzi sono costretto a ad andarmene io stesso conclusi in modo piuttosto incongruo non sapendo con quale minaccia spaventarlo per scuoterlo da quella sua immobilità inducendolo a obbedire disperando nell'esito di altri sforzi stavo per lasciarlo precipitosamente quando mi venne un ultimo pensiero un'idea che non avevo mai del tutto accantonato in precedenza Bartleby dissi con il tono più gentile che in tutta quella concitazione mi riuscì di assumere vuole venire con me non nel mio ufficio ma nel mio appartamento e restare lì finché non avremo trovato con comodo una sistemazione conveniente su andiamoci adesso subito no per il momento preferirei non cambiare nulla non replicai ma scansando tutti con una fuga subitanea e rapida mi precipitai fuori da quello stabile risali di corsa Wall Street verso Broadway e saltando sul primo omnibus mi trovai presto al sicuro dagli inseguimenti non appena fui di nuovo calmo capì distintamente di aver fatto tutto il possibile sia per venire incontro alle esigenze del padrone di casa e degli inquilini sia per appagare il mio desiderio obbligo morale di aiutare Bartleby e proteggerlo da una dura persecuzione mi sforzai allora di scrollarmi di dosso ogni ansia e di mettermi tranquillo la coscienza approvava quel tentativo sebbene non proprio come avrei voluto ero così timoroso di essere stanato dall'esasperato proprietario e dagli adirati inquilini che affidando l'ufficio a Pansnay per qualche giorno mi diressi in carrozza verso la parte alta della città attraversando i soborghi arrivai a Jersey City e Hoboken al di là del fiume visitai in gran fretta Manhattan Villa Astoria insomma vissi quasi tutto il tempo in carrozza quando varcai di nuovo la soglia dello studio ecco sulla mia scrivania un messaggio del padrone di casa lo aprì con mani tremanti mi informava che lo scrivente aveva fatto intervenire la polizia e condurre Bartleby alle tombe per vagabondaggio siccome io su di lui ne sapevo più di ogni altro mi pregava di recarmi in quel luogo e fare un'adeguata deposizione dei fatti questi raguagli ebbero su di me reazioni contrastanti da prima ne fui sdegnato ma alla fine giunsi quasi ad approvare la decisione il temperamento sbrigativo ed energico del padrone di casa lo aveva indotto ad adottare una procedura che non credo mi sarei mai deciso a seguire eppure estremo rimedio in quelle circostanze tanto insolite sembrava l'unica soluzione come appresi più tardi il povero scrivano avvertito che doveva essere tradotto alle tombe non aveva opposto la minima resistenza ma vi si era adeguato con la sua pallida imperturbabile mansuetudine alcuni presenti per compassione e curiosità si erano uniti al gruppo e capeggiato da un poliziotto a braccetto di Bartleby il silenzioso corteo aveva sfilato attraverso le concitate strade in mezzo al frastuono e al caldo e all'allegria del mezzogiorno lo stesso giorno in cui ricevetti quel messaggio mi recae alle tombe ovvero per esprimermi con precisione al carcere giudiziario cercato il funzionario competente dichiarai lo scopo della mia visita e veni a sapere che di fatto l'individuo descritto era lì trattenuto assicurai allora il funzionario che Bartleby era un uomo di assoluta probità da commiserare profondamente seppure eccentrico al dirà di ogni dire esposi tutto quello che sapevo e conclusi suggerendo di tenerlo in reclusione con tutta l'indulgenza possibile finché non si fosse trovato una soluzione meno aspra sebbene in vero non sapessi quale potesse essere se poi non si fosse deciso niente lo avrebbe accolto l'ospizio dei poveri chiesi quindi di parlargli non essendo imputato di nessun grave reato e avendo sempre un'aria docile e innocua gli avevano concesso di aggirarsi liberamente per la prigione soprattutto nei cortili erbosi interni fu quindi lì che lo trovai da solo in piedi nell'angolo più tranquillo con il volto verso un alto muro mentre tutto intorno attraverso le strette feritoie delle finestre della prigione mi parve di scorgere gli occhi di ladri e assassini che sbirciavano Bartleby la conosco disse senza voltarsi non ho nulla da dirle non sono stato io a portarla qui Bartleby dissi profondamente addolorato dall'implicito sospetto e per lei questo non dovrebbe essere un posto tanto abbietto non le viene imputata nessuna azione riprovevole per trovarsi qui e guardi non è poi così triste come si potrebbe pensare guardi c'è il cielo c'è l'erba so dove mi trovo rispose ma non volle aggiungere altro e così lo lasciai mentre imboccavo di nuovo il corridoio un omaccione dall'aria sanguigna con un grembiure mi si avvicinò e indicando con il pollice sopra la sua spalla disse è un suo amico sì vuole morire di fame se sì basta dargli la reazione che passa il carcere ed è fatta lei chi è chiesi non sapendo come catalogare una persona che in un tale posto parlava in modo così poco ufficiale sono il vivandiere i signori qui che hanno amici mi pagano così io gli porto cose buone da mangiare è vero chiesi volgendomi verso il secondino lo confermò allora dissi facendo scivolare qualche moneta d'argento nelle mani del vivandiere perché così lo chiamavano le chiedo di prestare particolare attenzione al mio amico qui gli faccio avere il miglior pranzo che riesce a trovare e con lui sia più gentile che può che ne dice di presentarmi chiese il vivandiere guardandomi con un'espressione che sembrava significare l'impazienza di mostrarmi le sue buone maniere pensando che potesse giovare allo scrivano accondiscesi e chiedendo al vivandiere come si chiamasse mi avvicinai con lui a Bartleby Bartleby ecco un amico vedrà che le sarà molto utile servitor suo signore servitor suo disse il vivandiere con un profondo inchino dietro il suo grembiule spero che sarà di suo gusto qui signore bel giardino locali freschi spero che rimarrà con noi per un po' cercherò di renderglielo piacevole cosa vuole per pranzo oggi preferisco non pranzare oggi disse Bartleby voltandosi dall'altra parte mi farebbe male non sono abituato a pranzare così dicendo si portò lentamente sul lato opposto del cortile e si mise davanti al muro cieco cosa vuol dire disse il vivandiere rivolgendosi a me con sguardo attonito è un po' tocco vero penso che sia un po' dissennato dissi con tristezza dissennato dissennato dice beh parola mia ecco cosa pensavo che quel suo amico lì era un falsario sempre pallidi e con l'aria da signori quelli i falsari mi fanno pena signore non posso farne a meno conoscevamo Roe Edwards aggiunse in tono mesto e tacque quindi appoggiando la mano sulla mia spalla con gesto accorato sospirò è morto tisico a sin sing così non conosceva Morro no non ho mai frequentato falsari ma non posso restare oltre abbia cura del mio amico laggiù non ci perderà a rivederla alcuni giorni dopo di nuovo ammesso alle tombe percorsi i corridoi alla ricerca di Bartleby ma senza trovarlo l'ho visto da poco uscire dalla sua cella disse un secondino forse se n'è andato a gironzolare in cortile mi avviai in quella direzione cerca l'uomo che non parla chiese un altro secondino superandomi è disteso laggiù dorme nel cortile non sono neanche venti minuti che l'ho visto sdraiarsi il cortile tranquillissimo era precluso ai detenuti comuni le mure intorno straordinariamente spesse lo isolavano da ogni suono esterno lo stile egizio del complesso mi incombeva addosso con il suo cupore ma sotto i piedi cresceva una soffice erbetta prigioniera il cuore delle piramide eterne sembrava dove all'interno per qualche strano incantesimo attraverso le fenditure dai semi lasciati cadere dagli uccelli fosse germogliata l'erba rannicchiato in una strana posa ai piedi del muro con le ginocchia piegate disteso sul fianco la testa appoggiata sulle pietre fredde vidi il devastato Bartleby non si muoveva nulla mi fermai quindi mi accostai a lui mi chinai e vidi che i suoi occhi opachi erano aperti per il resto sembrava immerso in un sonno profondo qualcosa mi spinse a toccarlo tastai la mano e un brivido pungente mi guizzò su per il braccio e giù per la schiena fino ai piedi il faccione rotondo del vivandiere sbucò dietro di me il suo pranzo è pronto neanche oggi vuol mangiare e che vive senza mangiare vive senza mangiare dissi e gli chiusi gli occhi ehi dorme con i re e i consiglieri mormorai non occorrerebbe dire molto di più in questa storia l'immaginazione può facilmente dare l'idea dello spoglio rituale del seppellimento del povero Bartleby ma prima di accomiatarmi dal lettore lasciatemi dire che se questo racconto ha suscitato la curiosità di sapere chi fosse Bartleby e che vita avesse condotto prima che lo conoscesse il presente narratore posso soltanto rispondere che io pienamente condivido tale curiosità ma sono del tutto incapace di soddisfarla eppure a questo punto sono incerto se divulgare l'eco di una diceria che giunse al mio orecchio alcuni mesi dopo la morte dello scrivano su quali basi poggiasse non sono mai riuscito ad accertare quindi non sono in grado di dire quanto ci sia di vero ma poiché questa vaga notizia comunque riportata non mi sembra priva di una sua suggestione forse lo stesso parrà agli altri così ne farò un breve cenno ecco la notizia Bartleby era stato un impiegato subalterno nell'ufficio delle lettere smarrite a Washington dal quale era stato all'improvviso licenziato per un cambiamento nell'amministrazione quando penso a questa diceria a fatica riesco a esprimere le emozioni che mi perpadono lettere smarrite lettere morte non suona come uomini morti pensate a un uomo per natura e sventura incline a una languida disperazione esiste un lavoro più adatto ad accentuarla che maneggiare continuamente queste lettere morte e metterle in ordine per dare alle fiamme ogni anno ne vengono bruciate e accarrettate qualche volta dal foglio piegato il pallido impiegato estrae un anello il dito al quale era destinato forse imputeridisce nella tomba una banconota inviata in un moto di pronta carità e colui che ne avrebbe tratto sollievo non mangia più e non soffre più la fame parole di perdono per coloro che morirono nello sconforto di speranza per coloro che morirono disperati buone nuove per coloro che morirono soffocati da sventuri inconsolabili a portatrici di vita queste lettere rovinano verso la morte o Bartleby o umanità audible ti ringrazia per l'ascolto a risentirci per l'ascolto